Analogalmente al blocco a riquadri, esiste anche il dividi riquadri. Vediamo che cos'è. Allora, questa è una base dati dove abbiamo la settimana 1. Poi per le ragioni dobbiamo rilasciare uno spazio in basso, perché dobbiamo inserire altre informazioni. E più sotto troviamo la settimana 2. Ora dobbiamo confrontare i dati con la settimana 1 e la settimana 2, solo che visivamente diventa veramente molto difficile andare su e giù. Qui ci viene in aiuto il dividi riquadri. Quindi cliccando sulla prima colonna A e andando sul menu Visualizza, Scheda, Finestra, Dividi, andremo a dividere in due il nostro foglio elettronico. Quindi qui c'è la barretta che ci permette poi di decidere quante righe vedere. Adesso io con il foglio sotto mi sposto più giù. Ecco che vediamo la WIC 1 e la WIC 2 e mi viene semplice fare il confronto. Se torniamo su Visualizza e facciamo di nuovo Dividi, ritorniamo alla situazione iniziale. Se facciamo clic su una cella diversa dalla prima colonna andiamo a dividere il foglio in quattro parti. Quindi possiamo lavorare su quattro parti differente, destra e sinistra.